Quanto secondo lei il mondo della letteratura e del cinema possono essere interdipendenti fra loro? Secondo me il cinema è già di per sé letteratura perché ogni volta che si fa un film prima c'è un fatto letterario, cioè c'è la sceneggiatura. La scrittura per il cinema o la scrittura per il teatro fanno parte di quella particolarissima forma letteraria che è la scrittura drammaturgica, cioè una scrittura che racconta per immagini e per dialoghi e sostanzialmente è una scrittura che deve fare da partitura a qualcuno che deve parlare, deve recitare davanti a una macchina da presa o su un palcoscenico. Quindi c'è da dire come prima cosa che letteratura e cinema sono in qualche modo la stessa cosa. Poi ovviamente il cinema ha attinto alla letteratura da sempre, sono stati fatti per il cinema tantissimi romanzi e addirittura il cinema ha attinto dalla drammaturgia teatrale. Io stesso ho fatto diversi film partendo da un soggetto che avevo già precedentemente utilizzato in teatro, quindi sono tutte situazioni estremamente interconnesse fra di loro e la letteratura di per sé è una forma di racconto che deve essere letta e il cinema invece deve essere raccontato per immagini, ma le due cose non sono per nulla disgiunte perché poi il cinema fa sintesi di ciò che è scritto in un romanzo e lo racconta. Quindi è da sempre una forma di collaborazione quella tra la letteratura e il cinema o il teatro. Da dove nasce l'idea di scrivere il suo ultimo libro? Allora, affrontare un tema così gigantesco come la vita di Modigliani comporta una riflessione che parte da un tempo estremamente lontano, non è un'idea che ti coglie un giorno e la metti in pratica. Io penso a una storia su Modigliani da quando ero ragazzo, quando ho letto un libro sulla Bohème di cui non ricordo nemmeno il titolo e all'interno delle grandissime storie della Bohème mi è rimasto appiccicato addosso per una ragione incomprensibile che ancora non so spiegarmi, quella di Amedeo Modigliani. Modigliani è un personaggio estremamente controverso, controverso per se stesso principalmente perché aveva una capacità autodistruttiva pazzesca e forse è proprio quello il fascino del personaggio. Purtroppo lui da bambino è stato colpito dalla tubercolosi quindi ha vissuto tutta la sua esistenza con una fretta mostruosa perché la tubercolosi in quei tempi non dà scampo, quindi la sua vita è stata consumata in velocità e in fretta perché pensava, sentiva l'ala della morte sempre presente, ma malgrado questo punto di vista estremamente drammatico la sua vita è stata invece molto divertente e soprattutto piena di fatti, piena di sentimenti, piena di amore, piena anche di cose divertenti e il periodo che lui ha vissuto a Parigi era talmente particolare, quasi psichedelico che si può confrontare con i mitici anni 70 della rivolta studentesca ovunque e lì c'era una rivoluzione, bisognava colpire i borghesi e farli pensare in un altro modo e per fare questo ci si comportava in modo bizzarro. Il successivo modo di dire sesso, droga e rock'n'roll durante la bohème era Antelitteram, vita di tutti i giorni insomma e ha avuto una vita piena di donne, di amori, di situazioni controverse, di esperimenti nell'arte e soprattutto di amicizie straordinarie perché in quel momento a Parigi c'erano tutti gli artisti del mondo. tu andavi al bar e trovavi Picasso, Utrillo, Soutine, Cocteau e a un altro tavolo c'era Lenin, Trotsky, in un altro tavolo c'erano le donne più belle dell'epoca, insomma era una situazione assolutamente magica quella della bohème di inizio secolo. Che cosa rappresenta per lei il Terni Film Festival? È la terza volta che io vengo a Terni e una volta perché ero in giuria, una volta per presentare un cortometraggio che ho prodotto insieme a mia moglie e con la sua regia e questa volta per presentare il mio libro e diciamo che è un appuntamento ormai assiduo che mi segno già precedentemente sull'agenda e che so che intorno a novembre si viene a Terni e trovo sempre una situazione estremamente piacevole, piena di giovani, di interesse e devo dire che Arnaldo Casali è una persona piena di entusiasmo e che riesce ogni volta a mettere in piedi questo festival pur tra mille complessità e difficoltà e mi auguro che lo si aiuti a portarlo avanti, spero che ci siano e si possano trovare i soldi per farlo andare avanti in questa sua attività meritoria e che non deve assolutamente finire. E poi il tema, quello spirituale del Festival di Terni insomma non è trascurabile ed è importante che ci siano situazioni che vadano un po' in profondità nell'animo umano. Grazie a tutti!